In questi giorni nelle località costiere si sono svolti diversi open day organizzati dalla regione Campania in sinergia con l'Asala di Salerno e l'Asala Napoli Centro per garantire ai vacanzieri ma anche ai tanti cittadini residenti dei comuni costieri cilentani che non ne hanno avuto la possibilità di effettuare la prima dose di vaccino o il richiamo. Tutto è andato bene, anzi benissimo, se si guardano i numeri di persone che hanno aderito all'iniziativa. L'unica domanda ricorrente che in questi giorni diversi cittadini che hanno effettuato la prima dose si stanno ponendo sui social è la seguente. Come sapremo quando effettuare la seconda dose del vaccino e dove recarsi? A rispondere a queste domande è la dottoressa Federica Meneghini, medico vaccinatore, presente durante l'open day in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli la scorsa settimana. I cittadini interessati saranno convocati per email o per sms dalle rispettive ASL di appartenenza. Al momento della richiesta del vaccino gli operatori presenti hanno infatti compilato e inoltrato un file con tutti i nominativi dei cittadini vaccinati con prima dose a ciascuna azienda sanitaria locale di appartenenza. Raccomandiamo comunque sempre in caso di mancata convocazione in prossimità dei 42 giorni dalla prima dose, limite massimo per l'esecuzione della seconda dose, di recarsi presso il più vicino centro vaccinale e richiedere di eseguire la seconda dose. Il tempo di convocazione per la seconda dose va da 21 ai 42 giorni, dipende da quando l'ASL in questione ha programmato i richiami. Se però c'è la necessità per viaggi in programma o questioni lavorative di vaccinarsi il prima possibile, purché siano comunque passati i 21 giorni dalla prima dose, i cittadini possono recarsi presso il centro vaccinale o il distretto sanitario di appartenenza e richiedere di eseguire la seconda dose per i suddetti motivi.